Simone Reo Simone Reo, in arte Mose, età, fidanzata e vita privata del rapper di Amici 17 Età, storia e vita privata di Mose, il cantante di Amici 17 con i capelli grigi, ecco chi è Simone Reo. Tra gli allievi di Amici 17 questanno cè Simone Reo, in arte Mose, rapper milanese già popolarissimo su social. Mose è nato nel 1996, ha 21 anni ed è alto 175 centimetri, studia comunicazione a Milano ed è un gran sognatore. Nelle sue canzoni il nuovo volto di Amici porta la sua vita e le sue paure. In passato ha sofferto molto a seguito dell'abbandono del padre ma, oggi, il ragazzo si dice innamorato della vita, anche se a volte ha tanta paura, una delle sue canzoni si intitola proprio La paura. Nella scuola di Amici 17 Mose è stato scelto come capitano della squadra del ferro che, quest'anno, dovrà confrontarsi contro la squadra del fuoco, capitanata dal cantante Matteo Cazzato. L'infanzia di Mose e la voglia di emergere grazie ad Amici 17. Mose scrive i suoi testi fin da quando era bambino. Sua madre l'ha cresciuto da sola e, già all'età di 11 anni, il ragazzo ha dovuto fare i conti con la figura assente del padre, andato via di casa dopo la separazione. Quando gli è stato chiesto per quale motivo desiderasse entrare ad Amici Mose ha parlato della sua voglia di emergere. Ho fame, no voglia di mangiare, ma di prendermi tutto ha detto il rapper iCasting. Nella vita ha dovuto rinunciare a molte cose per colpa dei soldi e adesso, nella scuola di Maria De Filippi, ha tanta voglia di studiare per migliorare tecnica e voce. Mose e il successo sui social, da Instagram e Facebook tante fan pronte a supportarlo anche ad Amici 17. Sui social tanti sono i supporters del rapper pronti a seguirlo anche in questa nuova avventura. Su Instagram e Facebook Mose ha sempre condiviso molti momenti della sua vita con i propri followers, anche il cammino iniziato ad Amici 17 che lo ha portato poi a conquistare un posto all'interno della scuola. Su Youtube inoltre sono disponibili alcuni dei suoi lavori, canzoni e video musicali realizzati prima dell'ingresso nella scuola. Nonostante molti dei suoi versi più conosciuti parlino di amore e sentimenti, ad oggi Moser sembra essere single e impegnato in nessuna relazione. Grazie a tutti!